Due mesi dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, le forze dell'ordine hanno fermato altri due fiancheggiatori che il boss frequentava abitualmente. Vediamo il servizio di Ghiari Pilati. A fine gennaio si presentano dei carabinieri. Quello che avete arrestato lo abbiamo visto qualche volta. Si faceva chiamare dottor Francesco Salsi, non avevamo idea. Menzogna. Matteo Messina Denaro lo conoscevano benissimo e da anni. Emanuele Bonafede è cugino di Andrea Bonafede, presta nome del boss. Sua moglie, Lorena Lanceri, per il capo mafia era anche qualcosa di più, confidente, tramite. Lui, da latitante, mangiava da loro quasi tutti i giorni. Era lì persino la sera prima dell'arresto. Eccolo, 15 gennaio. L'immagine del giorno dopo la conosciamo già. Un arresto, scrivono i magistrati di Palermo, che riscatta anni di flop. Da almeno sette anni Messina Denaro viveva proprio a Campobello di Mazzara. Nel 2017 fa da padrino di Cresima al figlio di Bonafede Lanceri. Forse non formalmente, ma comunque chiama il ragazzo figlioccio e va di persona a comprargli un Rolex. Poi annota a mano 6.300 euro orologio. La Lanceri con lui si fa chiamare Diletta. Rapporto affettuosissimo. Nel 2019 lei scrive al mafioso assassino Ti adoro, sei un grande, anche se non fossi a me di, sigla chiarissima, Messina Denaro appunto. Da quella casa, oggi sono usciti scortati dai carabinieri di Trapani e del Ross, diretti in carcere. Lei aveva un compito speciale, organizzare per il capo mafia gli appuntamenti con un'altra donna, un'altra Bonafede, Laura. I due si vedono spesso di nascosto, ma in questo supermercato si incrociano per caso. Quando gli appuntamenti saltano, lei gli scrive C'è il re leone in tv? Mi sarebbe piaciuto ascoltare insieme la frase Io rido in faccia al pericolo. Dal 16 gennaio i film col boss non li può più guardare.